ciao a tutti bentornati qui sulla morgrunt finito la missione con l'acqua abbiamo beccato i soldi per chi di voi non ha visto la missione o la puntata precedente sotto descrizione c'è il link con la playlist abbiamo fatto una missione acqua non l'avevo mai fatto c'è caricare dell'acqua e portarla da un'altra parte missione stranissima nuova e non l'ho mai fatta ma comunque stavo dando un'occhiata al mio aiutante qui perché dovrebbe lavorare ma a quanto pare qui il fertilizzante i campi vanno bene e vedo che lui qui non ne butta giù manco un centesimo perché qua è a posto secondo me quando l'ho fatto partire l'ho fatto partire nel punto sbagliato o lui si sta cercando il suo punto vediamo un po quello blu sì secondo me o si sta cercando il punto nel momento in cui l'ho fatto ripartire qui si è preso il punto sbagliato intanto qua l'ho attivato vabbè allora abbiamo altro un'altra retta di luce e vorrei approfittare di due cose prima cosa è andare a vedere come messo il mio impianto biogas con l'insilato se ce n'è dentro o meno ce n'è 68 durante la notte abbiamo bisogno circa di un cento centomila circa il che significa che adesso gliene pompiamo un po dentro così dovrebbe prenderlo sì così lo dovrebbe prendere però perché non adesso sì magari così vediamo a quanto siamo io direi che con cento facciamo cento trenta dai vediamo se ci arriva no si è fermato prima perché è finito ma va bene anche i cento ventitré durante la notte questi bastano ok questo lo torniamo a spegnere perché non mi serve più e ne volevo approfittare per dare intanto un'occhiata qui alle mie mucche vediamo come siamo messe ma le mucche vanno bene mi sono dimenticato di attivare la modda anche qui quella delle produzioni no andiamo a prenderci un trattore che va bene questo perché l'altro l'abbiamo venduto e volevo andare a comprare il rullo quello da se mi sembra che quello non ce l'ho vero ce l'ho non ce l'ho vediamo rullo rulli no mi serve quello per andiamo direttamente da qui quello per dare una una cosa di fertilizzazione lì all'erba dov'è odio io quando non trovo subito quello che cerco dov'è la cura dei prati eccolo qua cura prati questo quanti metri è 12 e questo è 24 no io direi che mi tengo questo da 12 perché 24 non avrei neanche i trattori e poi questo qua è un po' universale ci posso andare con tutto allora configurazione trailer box bkt trailer box bkt mi piace più questo colore principale un grigio più scuro c'è sì colori cerchi va bene questo la targa di sicuro non questa no qui dov'è r qui orgrunt b va bene ok compriamolo andiamo a ritirarlo subito abbiamo questa ancora 40 minuti così almeno vediamo se riusciamo a farne uno spero che li facciamo tutti e due ma uno è meglio che niente allora abbiamo finito anche di seminare il campo 9 con le barbabietole così che no aspetta cosa ho messo non mi ricordo neanche cosa ho piantato il 15 con le barbabietole sul 9 abbiamo messo girasoli infatti sì e avevo confuso con il 15 avevo invertito i due campi a proposito volevo comprare anche un altro campo che è il 3 tanto abbiamo i soldi per farlo abbiamo i 141 mila il campo d'orzo noi siamo in il campo d'orzo dovrebbe venire pronto fra un paio di mesi che significa che abbiamo il tempo di dargli un po di fertilizzante magari non oggi ma domani e direi che possiamo andarlo a comprare subito compra così almeno questi e i campi che abbiamo vicino alla fattoria sono tutti i nostri almeno quelli qua in basso 1 2 3 4 poi inizieremo con 5 6 7 8 piano piano andremo per ordine vediamo intanto pure cosa c'è sopra se ne vale la pena o meno così che almeno andiamo un pelo più avanti tanto il rullo l'avevo comprato 60.000 mi sono rimasti va bene dai tanto durante la notte dovrebbe arrivare anche la vendita del biogas sì dovremmo iniziare pure a pagare un po il nostro finanziamento restituiamo vediamo se in un paio di puntate riusciamo a restituire tutto quello che che ci siamo prestato prestati prestato quello che è aspetta devo passare un po il microfono perché secondo me arriva troppo forte allora proviamo così sì dovrebbe essere un po meglio allora entriamo da qui questi alberi sono una rottura non si vede la strada è impressionante a pensare che dove abito io le strade sono così con tutti gli alberi a fianco però almeno lì sei wow guardate i cavi collegati fico 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 ok allora visto che siamo qua iniziamo con il pezzo d'erba che c'è qua sopra dai tanto uno o l'altro da uno dobbiamo cominciare nel frattempo il mio aiutante il digestato lo sta dando via sì adesso sì probabilmente era ora ho fatto partire io nel punto sbagliato o c'è stato il fatto quello che magari era sull'ultimo giro e si doveva ancora mettere in posizione ok bene allora mentre stiamo lavorando qui possiamo fare due cose andiamo a vedere quanto prestito mi ero fatto perché non mi ricordo perché secondo me siamo intorno ai 500 mila euro siamo a 600 vabbè non saranno tantissimi i soldi degli interessi quelli dovremmo farcela allora faccio un giro qui e poi voglio andare a vedere quanto allora mi costa sulle 300 mila euro la produzione lì quella che fa un po' tutto calcio e compagnia varia perché un po' di sassi ce li abbiamo potremmo buttarli dentro e fare un po' di calce e metterla già in funzione durante la notte così che è vero però che per adesso della gran calce non non mi serve no risparmiamoci quei 300 mila per adesso dai allora ci metto un attimo qua l'aiutante che voglio andare a vedere ok sta andando a ricaricarsi non so se avete visto la puntata mi sembra quella precedente dove avevo fatto vedere la modifica del percorso adesso torno a farvela vedere se qualcuno magari non l'ha vista vedete prima c'era solo il percorso esterno esterno qui che faceva andate al ritorno si andava per andare a caricare e compagnia varia ma siccome dipende dai punti dove si trovava faceva ci voleva due minuti allora ho preferito tagliare il campo facendo questo percorso qua che state vedendo quello verde così che lui a metà campo ha subito un percorso per tornare indietro e l'ho lasciato a posta verde così che lui utilizza più questo che quegli esterni così che risparmiamo tempo morto di trasferimenti perché questi sono tempi che andiamo a risparmiare oltre al fatto che risparmiamo anche il salario delle aiutanti perché quello si fa pagare comunque a ore e noi questi li risparmiamo un po' era questo quello che vi volevo far vedere l'ho fatto vedere secondo me una o due puntate precedenti adesso non mi ricordo più comunque questi qua come punto d'uscita del campo io ci ho messo il più vicino così che lui si va a prendere il più vicino per andare a rifornirsi di digestato e visto che ci siamo adesso andiamo a vedere pure quanto ne è rimasto dei 500.000 litri che ne avevo comprato inizialmente perché qua è proprio stretto ce la facciamo appena allora io ne avevo comprato 500.000 litri vediamo quanto ne sono rimasti me lo dici 2.69 adesso questo carica un po' beh secondo me dovremmo finire con i 60.000 litri che avevamo cioè con i 60.000 litri dovremmo finire ne rimangono 200.000 ma quelli me li conservo per il prossimo giro tanto c'è da fare ancora il campo 9 che è seminato e va va concimato anche quello perché non l'ho fatto perché questa diventerà una fattoria biologica infatti ho comprato apposta la seminatrice quella senza il fertilizzante così che andremo dopo noi a fare o con il concime quando l'avremo o per adesso digestato o coso liquido come si chiama liquame liquame no liquame liquido non esiste comunque liquame allora io vedo che qui comunque abbiamo 329.000 litri di digestato se penso che lì ne abbiamo già consumato 300 io direi che ce la possiamo pure fare ce la possiamo pure fare a concimare tutto il campo 9 col digestato che abbiamo noi nel biogas così che non c'è bisogno e che andiamo a spendere altri soldi per andare a fertilizzare quel campo lì vediamo un po' le serre come sono messe queste lavorano sì compost l'ho comprato ma prima o dopo voglio produrlo ma per quello mi ci vuole mi ci vuole quella fabbrica lì dove produce un po' tutto stavo guardando questa cosa qua putter production 2 che è mia ma dov'è putter production 2 allora andiamola a vedere da qui così che vediamo se la trovo disattivo tutto tranne che le produzioni allora questa qua impianto biogas serre 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 zucchero feld lebensmittel fodder production ok allora io sta cosa dovrei averla qua vicino secondo me perché questa è quella fodder production normale però non è mia fodder production 2 che cacchia stoccaggio e farm silo no stazione di ricca questi sono gli animali qui c'è anche la cosa dove metterli fuori no boh non lo so ma io sta cosa ce l'ho e non so dove magari ci dovrò una chiata anzi no sapete cosa vi dico aiutiamoci con autodrive eh sì perché i percorsi non li ho registrati io ho solo mi sono solo limitato a tradurle produzioni butterfabrik consegna balle consegna lebensmittel non c'entra niente mulino produzione semi consegna segheria io sta cosa ce l'avrò ma non so dov'è probabilmente non vorrei che magari è sul andiamo a vedere se è qui dove sono le scale per fortuna che volevo passare il rullo io mi sono perso mi sto perdendo cosa c'è scritto qui ah no coloro che hanno fatto la farm eh bello bello mi piace sta cosa qua che l'hanno messa qui allora questo cos'è però questo è solo stoccaggio selezione prodotto e la quantità che vuoi acquistare no acquisto no io non voglio acquistare questi sono solo dei silos dove io posso acquistare o scaricare qua sopra c'è il mio multi silos l'officina e non c'entra niente là sotto c'è l'impianto biogas e altra roba qua non c'è ah questo è bello questa è molto 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 bella allora totale razioni miste cibo per suino mangimi minerale e non c'è niente dentro di sta roba qua acqua ho messo dell'acqua quando ce l'ho messo io st'acqua aspetta un attimo non vorrei che è l'acqua che alla fine io gli ho scaricato dentro perché secondo me sì allora io l'acqua l'ho portata qui allora uscivo e l'ho portata qui io l'ho portata qui food production vediamo sì 6.866 d'acqua cioè è mia questa qua non la sapevo io c'è cosa qua allora qui c'è il coso vediamo se è lei è lei ah non lo sapevo neanche che ce l'avevo questa cosa qua allora acqua insilato cosa faccio totale razione mista ma a me non serve fare la razione mista cibo per suini potrei fare un po' di mangime minerale per fare il mangime minerale mi serve pieno paglia quello che cos'è quello che cos'è è avena e barbabietola da zucchero con l'acqua faccio questo posso posso fare anche posso asciugare anche l'erba e mi fa il fieno erba mi diventa fieno va bene così evito di fare evito di fare di tagliare il fieno taglio direttamente l'erba e qui mi fa l'insilato addirittura mi faceva anche l'insilato così però a saperle le cose allora una cosa utile c'è allora per me gli utili ce ne sono due quello per il cibo per i suini però mi serve patate mais rumento e colza se non sbaglio quella è colza quella è colza e mi fa il mais il cibo per i suini e mangia minerale che non sarebbe neanche male però mi serve un casino di roba tra cui avena e la cosa delle barbabietole che per adesso non ho e la cosa buona anche una cosa buona è quella per asciugare l'erba e addirittura mi produce acqua questa è una figata e bene allora al prossimo giro utilizzeremo questa per asciugare l'erba manco per asciugarla io passare il come si chiama il voltafieno poi il ranghinatore prenderemo direttamente l'erba la porto qui la essicco e poi la porto direttamente sulle mie mucche cioè sulle mie mucche vabbè nella mia nella mia stalla delle mucche sulle mucche non si può sentire assurdo sulle mucche allora vediamo un po' come si è messo oh ho scoperto un'altra cosa non sapevo neanche che fosse mia quella roba lì bene da un lato dovrebbe essere però segnato nel senso che tu ci clicchi sopra ti dovrebbe venire fuori un segnale dove c'è scritto questa è tua quella è mia anche tipo il terreno no terreno mio magari viene segnalato tipo come se avessi comprato il terreno o è segnalato io non mi sono accorto perché è possibile anche questa ok ok allora due giri lì e abbiamo finito alzo qua lui là com'è andata lui si sta ancora caricando ma comunque dovrebbe essere anche lui nel finire adesso qua faccio andata e ritorno ce la facciamo con andata e ritorno forse no ma comunque direi che facciamo così chiudiamo la puntata qui così io mi finisco di fare questo campo qua e farò anche l'altro perché diventerà sicuramente buio e come sapete ben sapete voi io non mi piace giocare al buio soprattutto registrare al buio perché di notte cioè col buio viene già non si vede niente a registrare cioè a giocare immaginate se dovete vederli io a volte li vedo i video con qualcuno che registra al buio a me non mi piace che significa io vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sulla Morgon un salutone ciao